Una grande novità! All'Astra Caffè, nel centro storico di Pesaro, si fanno dei gustosi aperitivi! Il giovedì e il sabato, dalle 18.30, aperitivi a soli 15 euro con pizza, prodotti del territorio e cocktail. Vieni ad assaggiare la pizza al taglio, sana e digeribile. E la nostra spremuta a freddo di arance, pompelmi e melograno, che grazie alla nuova esclusiva macchina, garantisce un risultato straordinario, mantenendo tutte le sue proprietà organolettiche. Astra Caffè, dalla colazione all'aperitivo, sempre con te!